Il Parlamento europeo ha approvato con un voto a larga maggioranza la revisione della legislazione sui dispositivi medici. L'obiettivo è di proteggere ancora di più i pazienti che fanno uso di questi strumenti. Sono stati stabiliti dei monitoraggi più rigorosi, un sistema di enti di certificazione più forte e una migliore tracciabilità dei dispositivi. I dispositivi medici, innanzitutto va chiarito che cosa sono, non sono farmaci. I medici sono dei presidi, degli oggetti, delle confezioni che vengono utilizzate dalla pratica clinica per tante cose. È un dispositivo medico pacemaker, è un dispositivo medico per esempio il cristallino, è un dispositivo medico una protesi ernearia. Cioè sono dei materiali che sono confezionati per un uso clinico. Diciamo che oggi la medicina moderna utilizza una quantità infinita di dispositivi medici. Se i farmaci hanno certamente allungato la vita per tante patologie, i dispositivi medici fanno una cosa analoga, migliorando anche la qualità di vita. La problematica forse più importante, la criticità maggiore, è che i dispositivi medici sono cresciuti da un punto di vista numerico in un modo impressionante. E questo in un momento di ristrettezze economiche, di spendere il review, rappresenta un problema perché i dispositivi medici sono sempre più costosi, più sofisticati. I pazienti giustamente li richiedono perché sono necessari e migliorano la loro qualità di vita. Allora bisogna selezionarli. Selezionarli prima di introdurli sul mercato, cioè selezionando il dispositivo medico realmente efficace da quello meno efficace, quello più sicuro da quello eventualmente un po' pericoloso. Non esiste una normativa così stretta e puntuale come il farmaco.